ciao a tutti ragazzi io sono eagle benvenuti sul mio canale oggi siamo qui col secondo episodio di oddio come si chiama il gioco earth medicine ragazzi time to hell andiamo bene allora abbiamo fatto il primo nostro giorno il nostro primo giorno no il primo giusto nonno nostro e scusate sono un po euforico ragazzi oggi vediamo cosa ci fanno fare dobbiamo tirare il su il morale a erl e spero solo il morale ragazzi perché non sono dell'umore adatto per tirare su altre cose allora tira sul morale anche ero so che questo non è il tuo luogo preferito nel mondo ma almeno c'è il sole sai vero che il sole provoca il cancro alla pelle certo ma almeno avresti qualcosa di nuovo di cui lamentarti ecco la nostra allison magari ellison riuscirà alle grazie non mi piacciono le more le prove irritanti madonna quanto cagar cazzo sto vecchio buona fortuna che è tutta sta roba posso comprare ok devo comprare una sedia che cazzo devo comprare comprare una sedia non ho capito però vabbè devo far gioca che cos'è questo vabbè gioca vai salve prego vai vai subito qui vai posso fare qualcosa per te se ho bisogno di un bicchiere d'acqua acqua che sono una pianta vaffanculo va allora andiamo qua oddio cerotti qua te che vuoi lettino vai vieni qua termometro su nel deretano su veloce ok vai che combo ragazzi che combo ragazzi te che vuoi vai vai qui vai qui dac 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 te signora sul lettino non so se perdono aspetta fai vaffanculo è incredibile vedete la lettura oh a pezzo de merda è vero che sto guadagnando punti con sto coglione ok allora voglio annullarlo eh vaffanculo ma ormai fammi finir qua oh ciociocio ma vaffanculo il mio lavoro presuppone che cammini ah ci sono riuscito però dai saluto tutti tre cuori vai bene così tre stelle tre cuori tanti soldi che cos'è oliver? oliver era il sorsio il cassetto d'india uomini gioco clicca le bolle, minima la siringa, ah ok va bene apriamo febba sa, non muo febba sa, brava questo è un personaggio nuovo ragazzi e lì sono, root, un bel root, sono così contento di vederti, ah belle belle, sentito quello che è successo con queen, cara di certo quello che sperai è il primo giorno del tuo ritorno, certo oh chiudi la bocca, sei capace esattamente come quel ragazzino viziato di mason, ok mason si chiama quello che sta insieme al chirurgo bisogna scegliere te ah, grazie root, non avevo bisogno voglio dare di darti qualcosa da mangiare, ah, daglie daglie, daglie hai sbloccato un nuovo livello sfida solitamente i livelli sfida non continuano la trama, ma quando li completi guadagni dei diamanti eeeh, che cazzo è qua, ah c'ho un diamante, vabbè dai facciamo sta sfida aiutami nella mensa dell'ospedale, oh mio dio allora, qua, che cazzo è qua vestire la mensa, ok è strano, sembra comunque che la gente abbia disperato, ho bisogno di uno chef io, se puoi tornare a qualche modo poterei prendere qualcosa nuovo oggetto, nuovo oggetto ok vai oddio, aspetta Mamma mia quanto rompono il cazzo No, no, qual è? Oh Sì, però aspettate ragazzi Siete un po' troppe Aiuto Mamma mia quanto è difficile questo Falli pagà, falli pagà, falli pagà Mamma mia quanto è difficile, porca troia Fallo pagà Do cazzo stava No Sbagliato Dammi tempo, do cazzo stava Eccola Datemi un attimo Lo faccio pagà subito Tieni Taci, va difficile sto giochino Per cazzo Falli pagà Dai, l'ultima mi deve far salire Fino a tre stelle, dai Sì Sì Ti culo Ottimo Difficile porca puttana ragazzi Ottieni Allora Allora Questo è tipo Archivement che si sbloccano Ok ragazzi Qui c'ho un diamante Che cosa mi fanno Che scherobetta Vabbè Poi lo scopriremo Più avanti Dai Daniel vuole depositare Parte dei materiali Della ristrutturazione In corsia Ancora qua sta Devo tornare in farmacia Ora Mi ricorda Ellison Non mi permette a nessuno Di mettere in testa Ok Allora Io non ho capito Che cazzo Ho comprato Questa Io non capisco Sti soldi Che A che servono Compramo Ah ricevono Ah Un supporto Che perdono Cuori più lentamente Ok Allora Facciamo così Compramo Sesto lettino Poi se compramo Altre coltrone Va Ok Gioca al livello 3 Vai Tu Vai sul lettino Un codon fioc Un testuro L'orecchia Vai Tu vada a fare la doccia Puzzone Tu vai qua 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 Questa A fare la doccia Ma queste le perdono Allora Clicca sul lato Della seringa Per rimuovere Le bolle Non ho capito Come si fa Però va bene Vai 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 Dimetti 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 Vai così Vai così Cazzo Tu cuori solo Mannaggia La puttanaccia Questo Cerotto Cazzo Ragazza Un pazzino Vai ti metti Ti metti Ti metti In schlonco Con fiocca A presto Sì Vai Non ci sto Acca di niente Regà Non ci sto Acca di niente Non è andata Non è andata Non è andata Dimetti Dimetti Vai Coscerotto E qua Prendi altri Due di questi Vai Ok Ah Dovrebbe essere Ho fatto il massimo Cazzo Trovato pure Oliver Era una sfida Dai Sono andato bene Dai Perché Non ho Che completi Una serie Movimenti Segui Va bene Attenzione Ragazzi Daniel Mi regala Dei cioccolatini Che cos'è È bello Ogni tanto Ricevo l'aiuto Invece di la mentele Beh Grazie La ristrutturazione È molto importante Perché è vero Sai che sono Diventato direttore Dell'ospedale Per via di mio padre Giusto Tafai Corfio Del boss La voce Fuori dal coro Impediscano Di rendere Questo ospedale Il migliore Del mondo Ok Bravo Vasce piano Chicco Vasce piano Chicche Ok 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 ragazzi Facciamoci anche Il livello 4 Controlla Sembri felice In modo Sospetto Daniel mi ha detto Ieri Ha parlato Di come Non lasciare Che i giudizi Negativi Ci influenzino A quest'idea Mi rimanasse in Bressa Oddio Magari Eccolo Lo ucciderò Di gentilezze Allora Io direi Di comprare Questa qua Anzi Questo Che significa Eh Pure questo Come serve Mo compro questa Poi Gioca Vai subito Qui Mettiamo Subito Questa qua Tac Questo Subito Andoccia Vai subito A controllare Vai cosí Veloce Lo ce Lo ce Oh, me sta a morire, me sta a morire, me sta a morire, Kiko Tera via a cadena, vai Vai, ce l'ho già, i coton fioc Vai a letto, te Vai qua, intanto Ah, ecco Ok Vai così Così No, 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 no Mamma mia, ricculo Cazzo devo fare Ah, ok, bene Vai così Controllate, va intanto Andoccia, tac Vai, vai, vai Ah, ok Ah, ok Ah Vai, tre cuori Vai Mamma mia, come sono andato ragazzi, tre stelle pure questa Vai così Oh, lì, è il mo' sopperso però O non è uscito proprio, il mo' sopperso, vabbè Bonus rapidi Allora, quando assegni velocemente un paziente, ottieni un cuore bonus Quando inizia un cuore, finisce un cuore Ok Ok Ok, vabbè, negaro Oh No E rompi, coglioni Ci sta Sta a morire Ma vaffanculo Eh, mo' sta a morire sul serio Però Perl Perl Oddio, mi sei bloccato il gioco Ah, no Ok Ok, ragazzi Eh, facciamo la mini sfida Dai Vai, facciamo Altri reparti hanno finito le scorte Dai, facciamo sta mini sfida Ho 350 Ne compro questo E giochiamo Vai, sfida 2 Vai così Questo che cazzo è? Allora, dai Ti vai da qua Così Ah, che mi vengano a rubare la roba Ok Vai, vai, vai Non c'è il coso Vai così 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 Prendi in coton fioc Prendi uno di questi Vai così Vai così Un po' ribonus per me Eh, vai, vai Ragazzi Sono andato un po' maluccio Nel, come si chiama Vai, curalo Subito Prendi questo Buttali via questi Vai Te vai qua Sono andato male Nella mensa Ma qui so Sono a spada Ok Scusate se non parlo ma Sono molto Impegnato Ah sono andato una bomba pure qui Vai così Continua Ok ragazzi io penso Si concludo qui il video Mi raccomando fatemi sapere Se vi sta piacendo questa serie Con un bel pollicione in su In su condividete Condividete amatemi Amate Ellison che guardate che bella figliola Che è e noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao belli